Un video che vuole ripercorrere le bellezze di Abruzzo attraverso gli appunti di Gabriele D'Annunzio che sono stati rinvenuti nella sua opera I Taccuini, che è un'opera che non è stata più ripubblicata da più di mezzo secolo. Per cui l'intenzione è stata quella proprio di rivisitare con i suoi occhi l'Abruzzo. Il cortometraggio che è stato realizzato e che ha ricevuto anche una menzione al premio Gardone Riviera è un video che è stato realizzato dagli studenti dell'Istituto Alessandrini, studenti di grafica, studenti di turismo per cui è stato un lavoro interdisciplinare e trasversale. Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo a camminare nelle vie di Tocco da Casauria, un piccolo borgo dell'Abruzzo montano che racchiude in sé molti secoli di storia e che soprattutto fu fonte di ispirazione e di svago per due grandi artisti, Michetti e D'Annunzio. I nostri studenti avevano in mente di ripercorrere questi paesaggi particolari, suggestivi del nostro Abruzzo sulle orme di questi grandi artisti, quindi di Michetti, D'Annunzio, di Barbella e quindi abbiamo appunto percorso soprattutto le gole del Sagittario, poi siamo stati alla Bersa degli Abruzzi, siamo stati a Tocco da Casauria, il ricordo appunto dell'escursione del 1881 in cui D'Annunzio, Michetti, Antonio De Nino, Barbella appunto calcavano queste terre per cercare l'ispirazione per le loro opere scultore, pittoriche e letterarie.